Buongiorno da BTV News. Oggi 28 aprile, Santa Valeria di Milano. Oggi ricorre anche la Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro. La giornata è stata istituita nel 2003 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e nasce dalla necessità di promuovere il dibattito attorno alla prevenzione delle infortuni e delle martie nei luoghi di lavoro e dare rilievo al tema del lavoro salutare e sicuro. Quest'anno il tema principale è sicurezza e salute nell'era digitale, innovare per proteggere i lavoratori. Con la digitalizzazione che ha rivoluzionato il modello tradizionale del post-lavoratore in molte industrie, le organizzazioni sono chiamate ad affrontare nuovi rischi legati all'usura tecnologica o all'esposizione a radiazioni non ioniche come conseguenza diretta degli avanzamenti tecnologici. Grazie 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 Grazie